Prima campanella amara per molte scuole del comune di Fiumicino, circa 90 AEC assistenti educative culturali sono rimasti a casa e i bambini all'interno dei plessi senza l'assistenza. Siamo qui perché a fine giugno è uscito il bando per affidare il nuovo servizio AEC UEPA per il comune di Fiumicino e ad oggi non è finito l'iter per questo bando e noi ci ritroviamo oggi senza poter lavorare. Noi siamo in difficoltà, non solo la cooperativa non ha seguito il servizio perché dovevamo entrare a scuola, invece noi ci troviamo fuori senza rientrare al lavoro e i bambini stanno senza di noi, le mamme vanno a portare i bambini ma non trovano l'educatore. Anche lei era convinta di iniziare a lavorare? No, noi oggi prendevamo servizio comunque, noi lavoriamo in primaria quindi oggi inizia nel nostro plesso il primo giorno di scuola. Quindi mentre da un'altra parte sta suonando la campanella, lei è sotto il comune di Fiumicino e non sa nemmeno per quale motivo non sta lavorando oggi? Non stiamo lavorando perché siamo in cambio appalto, perché l'appalto è stato fatto ma non c'è ancora una ditta alla quale è stato aggiudicato il servizio. C'è stata tutta un'estate per farlo, mentre noi arrancavamo perché noi siamo in sospensione contratto durante l'estate, quindi non lavoriamo, non percepiamo stipendio e dobbiamo rimboccarci le maniche per sostenere le nostre famiglie. Mentre noi arranchiamo e aspettando con ansia il primo giorno di scuola questo non succede, ecco qua. Ho sentito dalle parole delle sue colleghe, insomma c'è un misto di rabbia ma anche tanta paura perché si tratta di affrontare un inverno che fra l'altro non si prospetta nemmeno come un inverno semplice per tutti quanti e voi addirittura forse senza lavoro. Bravo, ha detto bene, senza lavoro. Io sono qui anche a rispetto di tutte le mie colleghe che purtroppo già abbiamo avuto un anno molto difficile con il covid eccetera eccetera, ora si mette anche questo e penso che non sia giusto. Eppure malgrado le difficoltà e la protesta erano molte le AEC che stamattina sotto il comune di Fiumicino rivolgevano un pensiero, oltre che al loro lavoro, ai bambini e alle famiglie considerando le loro difficoltà. Il problema sono proprio i bambini, cioè quindi la difesa di tutti coloro che a partire da oggi si ritrovano a scuola senza nessun aiuto.